Essenzia è un estrattore di terza generazione. Che cosa fa? Anzi, cosa non fa? Non centrifuga, non frulla e non spreme. Estrae. Estrae un succo vivo, cioè ricco di vitamine e di enzimi dalla frutta e dalla verdura. È molto semplice, si compone di un colpo base, ha una brocca con due elementi di uscita, uno per la polpa e uno per il succo. Il suo cuore è una coclea con il filtro già inserito, semplicemente si infila, un coperchio, il pestello, due contenitori da litro, uno per la polpa e uno per il succo e uno spazzolino finale per le pulizie delle parti interne. Siamo ormai tutti d'accordo sul consumo salutare di 5 porzioni di frutta e di verdura al giorno, ma come riuscirci? Ecco che Essenzia ci semplifica la vita. Essenzia è molto semplice da pulire, due elementi, la coclea e la brocca, sotto l'acqua corrente, un minuto e l'estrattore è di nuovo pulito. Meglio di così. Essenzia non centrifuga, non frulla e non spreme. Estrai succo vivo da frutta e verdura a 40 g da minuto, conservando i micronutrienti fondamentali per il nostro benessere. Grazie.